Preventi Angeli degli Occhi Verdi! Facciamola fuori! Tanto tempo fa questo sarebbe stato definito un arresto narcotico. I contenitori trasparenti riflettevano di verde, verde Valkyria. Era denaro sporco. C'era una chiave sul tavolo. Due assassini spietati pronti a uccidersi a vicenda. Entrano in una stanza e credo si preparano allo scontro. E invece no. Si siedono davanti alla tv e risolvono la loro divergenza con un videogioco di Kung Fu. Vuoi saperlo, Candy? Ero così deluso che ero strangolati entrambi con il cavo del Joe Inter. Oh, Rico, tu sì che sei un uomo. Lo so, lo so. Rico Muerte, il solito puttaniere. E tu cosa vuoi? Ah, il poliziotto! Muerte cercò la sua pistola. A e che scoppioi che darci a una del cavolo. E che scoppioi che da un avvent. Ah! Sì! Ah! 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 Grazie! Grazie a tutti.